Buongiorno, questa mattina abbiamo deciso che ci nascondiamo, è vero? Buongiorno, non mi hai fatto dormire stanotte tu? Pentiti, pentiti. Devi farla dormire, la mamma di notte si stanca, sono tanti quei cuccioli lì, come la affrontiamo la gravidanza? A testa alta, sempre a testa alta, no, 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 niente, non ce la facciamo più. Salute, fase di sperazione.